Allora, benvenuti a questo incontro tra due posizioni diverse. L'idea di questi incontri è di fare incontrare e scontrare due posizioni diverse nel mondo della fotografia. Questa sera abbiamo con noi due grandissimi interpreti divisi un po' dalla prospettiva già iniziale del loro lavoro. Maria Vittoria Baccaus, grandissima fotografa che io ho definito commerciale, ovviamente in materia provocatoria, che però come me deriva la sua esperienza professionale dal lavoro commissionato. E invece Maurizio Galimberti, grandissimo fotografo, che invece ha iniziato già la sua carriera, credo, adesso ce lo racconterà più dettagliatamente lui, con una prospettiva invece di arte. Allora, cosa è successo nel frattempo, diciamo, dalla mia generazione a quella seguente? Che si è aperta una prospettiva nuova, diciamo, quando io ho cominciato a 17enne, anche credo Maria Vittoria, non c'era neanche l'idea, diciamo, di poter vivere di fotografia venduta come opera. Non esisteva questa prospettiva, che invece si è aperta alle nuove generazioni e ha dato un altro tipo di, come dire, di prospettiva anche al lavoro fotografico. Quello che adesso chiedevo per cominciare questo incontro-scontro è forse a Maria Vittoria, per prima, di raccontarci come lei è arrivata al mondo della fotografia, attraverso quali esperienze. Un applausino per tutti. Allora, mi è percorso come quello di altri fotografi, avevo un marito giornalista, ho cominciato a fare delle foto di reportage, mi piaceva moltissimo il reportage, volevo essere una reporter, ho avuto un sacco di difficoltà perché ero una donna giovane e nessuno mi faceva lavorare, ma da lì poi, per farla lunga, ho passato al reportage industriale che mi permetteva di entrare nelle fabbriche, era agli anni dal 68 al 70, mi piaceva moltissimo il rapporto di vedere l'interno delle fabbriche, facevo questo lavoro un po' così. Allora io frequentavo sia l'accademia delle arti che il giamaica, i miei amici erano un po' più grandi di me, ma più o meno, da Lucas a Mulas a Alfa Castaldi, tutti loro, però il fotografo era una professione, non era una cosa che avesse a che fare con l'arte. Assolutamente, lo stesso Mulas considerava il suo lavoro, credo, una professione fotografo. A me infastidisce un pochettino questa cosa dell'artista, mi piace più essere un fotografo. Infastidisce Galimberti o la figura? Non puoi infastidermi, sì, va bene. Però ho capito, ormai, ma anche giovanissimi fotografi che cominciano mettono artista, intanto forse artista si è quando gli altri ti considerano un artista. La mia generazione, le uniche che avevano scritto artista sul passaporto erano le spogliarelliste, ti ricordo? Sì, adesso anche il trucatore è un make-up artist, per cui siamo tutti artisti e non si capisce più. Penso che la storia dell'artista sia nata perché il pittore non fa più il pittore, lo scultore non fa più le sculture fisicamente, ma ormai l'arte è una cosa di idee. Ma a me fino adesso mi piace che ancora noi scattiare le nostre foto e quindi siamo fotografi. Questa cosa mi piace di più, però voglio dire, non è una polemica, è un fatto assolutamente personale. E' stato sempre un lavoro per me. Se dovessi dire che sono un fotografo commerciale potrei dire che l'artista è quello che oggi vende le cose molto più commerciali di noi, in quanto viene valutato per il valore economico della sua opera. Io ho sempre lavorato per l'editoria ed è, secondo me, una grande soddisfazione l'idea che ti pagano pochissimo, va bene, però puoi fare quello che vuoi, insomma, è una cosa che mi è sempre piaciuta. E poi molti vedono la tua opera e la vera modernità, e forse è questa, di non essere richiuso all'interno della galleria e di fare la mostra. Ma tu sei molto visibile su un giornale, anche la pubblicità al limite. Io ho fatto poca pubblicità, molto più editoriali. Il concetto dell'arte, secondo me, adesso è più legato al denaro di quanto non sia il nostro lavoro. Sono abbastanza d'accordo. Attacca Galimba. Allora, raccontaci invece tu come e perché hai preso questa strada dell'arte immediatamente. Sì, allora, buonasera a tutti. Che non ti faccia lavorare nessuno. Sì, no, diciamo che io, giustamente Giovanni diceva un'altra generazione, diciamo che io, pur avendo quattro mesi solo in meno di Giovanni, sono un'altra generazione perché quando lui iniziava a fotografare, io cominciavo a fare le fotografie per hobby, a 17 anni ho sentito, io a 17 anni avevo iniziato a fotografare per hobby, e fino a 31 anni, 32, era un hobby, diciamo molto evoluto, però era un hobby. E poi dopo, nell'89, ho conosciuto quelli di Polaroid, ai quali era piaciuto il mio lavoro, e quindi ho iniziato a collaborare con la Polaroid, con anche delle storie divertenti. Ricordo che una volta noi avevamo un'impresa edile e stavamo costruendo una sede della Bonacina BBB, che era una grossa azienda di design. a Misinto, zona Sant'Andrea, dove c'erano tutte le fabbriche del legno, c'era la marca 3, c'era B&B Italia, insomma era un polo industriale del mobile importante, è ancora adesso. E ricordo che BBB aveva come progettista Castiglioni, Achille Castiglioni, e praticamente la mattina era in cantiere, che parlava la prima volta quando abbiamo iniziato gli scavi per fare il cantiere, e la cosa bella fu che lui arrivò lì, con la fiaschetta di whisky al collo, e io dicevo, ma che architetto è un San Bernard, no? C'avevo proprio una fiaschetta, e dicevo, no, è la sopravvivenza, invece c'era dentro il whisky, no? E la cosa divertente è che, insomma, facevamo tutte le cose, e poi io la sera dovevo andare a fargli un ritratto, i primi ritrati che facevo, che erano tante strisce messe assieme di Polaroid, perché avevamo con Polaroid, avevamo deciso di fare questo progetto su Milano, con una mostra al Teatro delle Erbe, e alla sera quando andai mi disse, ma sa che lei assomiglia al geometra che c'era stamattina in cantiere? Uguale, ma lei è un gemello? E io non sapevo cosa dirgli, perché ho detto, ero lì come fotografo della Polaroid, e gli ho detto, ma guardi, architetto, glielo dico nell'orecchio, sono io, quella è l'azienda di famiglia da quale io penso, spero di staccarmi, però nel frattempo faccio due cose, quindi diciamo che io ho iniziato molto tardi, e facevo appunto queste cose per Polaroid, delle mostre, facevo anche le dimostrazioni nelle fiere, nelle cose, perché ero capace di fare, riuscivo a utilizzare bene mezzo Polaroid, infatti c'era Mario Alfano, che era un big direttore di Polaroid, che purtroppo non c'è più da tanti anni, che è morto giovanissimo, il quale ogni tanto si incazzava, perché facciamo la stessa foto, a me veniva bene, ma a lui male, ma perché io innanzitutto curavo la messa poco e poi non usavo il flash, allora lui ogni tanto prendeva la macchina e diceva che la mia macchina era truccata, ma già, me l'hai data te la macchina, e poi diciamo che nel 92 sono uscito dall'azienda, ho iniziato a fare solo quello, con delle collaborazioni editoriali, con la Condenasse, l'uomo Vogue, Vogue Pelle, con la Bettina Casanova, Laura Cappelletti e altra gente, e poi sono entrato nel mondo dell'arte nel 97, cioè ho iniziato a fare, diciamo, nel 95 ho fatto questo volume che si chiamava Polaroid Pro Art, nel 94, che è diventato una specie di cut per chi amava la Polaroid, perché era un manuale fatto molto bene, che spiegava tutte le tecniche, perché è una cosa che io ho sempre amato, spiegare quello che fa, perché per me di segreti non ce ne sono, come penso anche te Giovanni, anche lei c'è, sono tutti i segreti Pulcinella, e poi nel 97, ecco lì è stata la svolta, venne da me questo Tommaso Bracco Reynoldi, quello della Bracco, che all'epoca aveva 22-23 anni, e dopo aprì la galleria B&D Studio, e mi dice, ah sei Maurizio, mi interessano i tuoi lavori, insomma mi comprò un sacco di fotografie, mi diede anche dei soldi, tanti, che io rimasi quasi basito, perché dicevo, anche noi, mi diede 50 milioni, posso anche dirlo, mi diede 50 milioni, mi comprò, 50 milioni nel 97, erano soldi, mi comprò il mosaico della Vuciria, mi comprò dei lavori, veramente molto importanti, e per me che ero spiantato, perché fatturavo 2 milioni al mese, a Polaroid, io non ci credevo tanto, poi dopo fece Arte Fiera, vendette tutte le opere, e poi iniziare a lavorare con il Torchio Costantini, e quindi da lì è nata poi questa cosa. Ecco, diciamo che a parte qualche commissione che tu hai talvolta, ormai lavori sostanzialmente solo come artista? Sì, perché diciamo che è una cosa che, il mio timbro di fabbrica sicuramente sono i ritratti, i ritratti devo dire che c'è veramente tanta gente che ama farsi fare il ritratto, anche Giovanni che sei un ritrattista sicuramente, e quindi poi ho iniziato a fare i mosaici di architettura, quindi i vari volumi, New York, Berlino, così sono tutti lavori commissionati, dove c'è un collezionista, un investitore, che compra tutte le opere, e poi dopo le mette sul mercato dell'art, però diciamo che vieni scelto per il tuo modo di fare fotografia, per il mio linguaggio, e conta molto diciamo all'inizio, poi mi sono reso conto, forse lo dicevo anche per casarmi di meno io, però all'inizio contava molto anche il fatto dell'unicità, dell'unicum, perché uno dei grandi problemi è sempre quello delle edizioni, eccetera, eccetera. Esattamente. Una domanda ancora, diciamo, Maria Vittoria, tu hai mai sofferto, o soffri attualmente, in qualche modo, la committenza? Cioè, diciamo, la creatività di un fotografo come noi, che lavora per le riviste, che lavora per la pubblicità, secondo te, è, come dire, tarpata un po' dalla committenza, o tu non l'hai mai vissuta come limite? profondo, diciamo. Ma ci sono committenze che ogni tanto sono difficili, e vanno a finire male, ma normalmente non la soffro affatto, perché la committenza vuol dire che ti permette economicamente di fare cose che tu non faresti mai. Vedi viaggi, vedi, hai capito, ti finanziano anche, se tu vieni pagato poco dai giornali, ti finanziano i progetti, e poi ti obbliga a essere creativo. Quello che invece, se vuoi fare una critica al mondo dell'arte, oggi mi sembra che obblighi a non essere creativi, cioè che se tu hai quella foto, siccome loro sanno di venderla, e non vogliono che tu faccia niente di nuovo, ti spingono a insistere su un unico progetto. Io ribalto la cosa. Trovo che, capito, sei più creativo quando sei nella difficoltà, e devi tirar fuori qualcosa di nuovo, che invece ogni tanto la gente ti chiede di far sempre la stessa cosa. Nel mondo dell'arte, secondo me, proprio perché è diventata così importante la parte economica, spesso vedo che, cioè, capito, a Struth li chiederanno sempre di fare i musei, poi lui si sforzerà di fare qualcos'altro, ma la sua foto sarà quella del museo, capito? Dove c'è tanto denaro, c'è poca creatività, secondo te? Più che altro nessuno investe in nuovo, ma questo è un problema italiano di tutto quanto, capito? Cioè, nessuno vuole che tu faccia una cosa nuova, perché sanno che con la vecchia va bene, l'hanno già vista, l'hanno così, spesso succede anche a noi che facciamo i giornali, questa cosa, che ti richiedono sempre la cosa, però lì, diciamo, ogni tanto hai la libertà di muoverti un po' di più, di fartene delle cose, tanto non sono grandi investimenti, voglio dire, capito? Sì, quello dicevo. Sì. Per esempio, io ricordo di me che la rivista in cui sono nato, che era donna, ti ricordo anche te, tra l'altro, hai fatto la copertina prima. Posteri già famosa, per dire la verità, ma io invece ero proprio uno sconosciuto. Questa rivista ha avuto un enorme slancio vitale, finché, diciamo, fatturavamo poco, avevamo poca pubblicità, secondo me fino al 84, 85, forse fino all'86. Poi quando la rivista ha cominciato a fatturare miliardi, ci hanno bloccato, no? Che è surreale, perché tutti aspetti che nel momento in cui finalmente arrivano i soldi, la creatività sia al massimo. Invece viene bloccata perché il prodotto funziona così. Il grande problema delle riviste è sempre stato che loro, io una volta sono entrata e gli ho detto, e loro mi parlano sempre dei clienti, io gli ho detto, ma il cliente che compra il giornale, si sono arrabbiati. E questo limita, no? Ma in Italia non è così. Abbiamo un paese numericamente talmente poco interessante, diciamo, per la vendita delle riviste, che nessuna rivista vive di vendita. Tutte vivono di apporto pubblicitario. Quella è la grande crisi di questo momento, è che l'apporto pubblicitario delle riviste, anche di moda, è calato dal 50-60%, e per quello stiamo andando malissimo. E quindi si fotografa anche molto meno, ci sono decine di riviste in chiusura. Volevo chiedere invece di nuovo a te, scusate, io faccio proprio un po', faccio un moderatore, cioè faccio un intervistatore. Volevo chiedere, effettivamente questo discorso di Maria Vittoria un po' ti riguarda. Nel senso che come sai, io trovo che per esempio tu sei uno straordinario fotografo, anche one shot. Invece in fondo la tua gabbia ti viene quasi sempre richiesta. Tu lo vivi a ragione lei? Cioè il successo artistico porta alla ripetizione dello schema e quindi a bloccare la tua creatività o tu invece non lo vivi in questo senso? Ma diciamo che è un'osservazione giusta. Ad esempio Denis Purti dice sempre che Morizio è uno che produce tanto. Ecco, questa è la risposta. Io produco tanto perché faccio tanta ricerca personale appunto sugli one shot. Infatti, oppure adesso, un po' obbligato quando faccio i progetti tipo quello di New York, Berlino, così. Comunque fare anche una sezione di scatti singoli perché io nasco proprio con la visione del fotografo che si è ispirato al cinema, a tuo zio, a De Sica, a Fellini, a Rossellini, a Wim Wenders. Quindi, assolutamente, io nasco dallo scatto singolo e credo che se non avesse avuto la cultura visiva dello scatto singolo non sarei riuscito a fare i mosaici. No, no, anch'io credo che in qualche modo come dire, hai talmente portato avanti questo discorso della gabbia che secondo me adesso è ora adesso non è un consiglio. Ma insomma, io amo talmente... Ma io non penso che è lui che la porta davanti, penso che è il mercato che gli ero chiede. Infatti, volevo dire quello. Quello che mi interessava. Abbiamo avuto anche un gallerista comune a Torino, no? I galleristi sono degli emeriti imbecilli perché poi almeno una volta... No, il mio no, eh! I galleristi, i galleristi nell'imbecillità però investivano, cioè andavi lì, gli piaceva il tuo artista, dicevano ti porto 20-30 lavori, te li compro, pochi maledetti ma buoni come diciamo in Brianza, cioè facciamo conto che se sei al 50% facciamo un prezzo finto 10.000 euro 10.000 euro di un'opera se lui la vende al pubblico in teoria sono 5.000 a te e 5.000 a lui se poi invece vai lì e te li compra prima glieli puoi dare anche a 3.000 gli fai un ulteriore... perché lui investe oggi non ci sono più quelli che investono quello sì e ti obbligano a fare le cose che loro sono sicuri di vendere perché se no... infatti io perché faccio tanto? perché indipendentemente da quello che mi chiedono faccio tanto per il mio bisogno personale per la mia formazione per il mio background di crescita e di progettuale perché se no veramente sarei dentro di una gabbia e mi suicido incredibilmente era quello un po' il tema di questo pomeriggio cioè incredibilmente la fotografia artistica è più limitata si direbbe adesso ne discutiamo ancora della fotografia commerciale guardiamo la Bicro ad esempio cioè se come adesso si è messa a fare i disegni le cose voglio vedere costano 500 euro cioè non ti permettono di uscire da un ghetto perché alla fine vieni ghettizzato infatti il problema è proprio quello lì però davvero il problema forte è che i galleristi sono non ci hanno più la cultura non ci sono più i galleristi che c'erano una volta e quindi l'unico gallerista forse veramente del tipo forse Massimo Midini no? di Precio lì a Roma che sono grandi galleristi però poi tutti gli altri sono io sono in una spirale di mercato da paura cioè accendo la televisione ci sono le opere ma è fastidioso non è bello perché all'inizio dici che è bello poi alla fine ti girano anche le balle perché dici cazzo trattalo bene il lavoro no? perché sennò diventa veramente carne da macello quindi è giusta l'osservazione allora passiamo è limitante che loro abbiano oggi come ancora in Italia soprattutto come per far vedere per farti conoscere per far conoscere altri sempre una galleria quando c'è due c'è internet giornali cioè tutto è andato velocissimo ed è curioso che noi facendo delle foto chiamate commerciali le possiamo far vedere a molta più gente di quanto non vedano le sue che è un'assurdità se ci pensi non probabilmente dovrebbero fare dei giornali d'arte non lo so distribuirlo in un'altra maniera invece rimani sempre nella galleria e nell'asta mi hanno spiegato non so se è vero i galleristi anche i miei perché io sono una via di mezzo nel senso beh anche ma è veramente anche tu vendi poche fotografie come opera insomma io invece tante per fortuna col solito vecchio culo gastelliano però diciamo che mi hanno spiegato i miei galleristi una cosa che per noi fotografi diciamo di natura commerciale nati nel commercio è un po' strana cioè che in arte vale il criterio opposto cioè il poco non bisogna far vedere le cose bisogna farle vedere pochissime bisogna che dire la vuoi no ma non guarda non te la vendo mentre siamo lì tutti disperati perché ce le vende però insomma che c'è tutto una come dire un meccanismo che i collezionisti amano che è quella della di avere l'idea diciamo di avere quasi in qualche modo scoperto l'autore quando non succede succede cioè quando invece come nel caso di Maurizio viene divulgata l'opera tantissimo secondo me è quasi negativo per te no? è molto negativo perché poi ti cercano di bloccarti di castrarti perché fai troppo non va bene però uno si deve mettere in testa che è l'artista perché io nel mio percorso degli anni mi rendo conto di essere di ormai di fare una fotografia che è legata al mercato dell'arte e non quello della comunicazione o della pubblicità salvo in casi dove viene usato come immagine di copertina no? però il problema è che se è arrivato a fare l'artista per un bisogno fisico cioè durante il giorno vedi delle cose bisogna fotografarle poi io uso la fotografia che è un metodo anche veloce non è che se devi fare un dipinto ci metti un mese a fare un mosaico ci metto 10 minuti a fare uno scatto singolo ci metto 10 secondi oggi per dire a caso ho fatto una ricerca partendo dalle mie immagini 10 secondi ti viene tutto mosso no con l'installab con l'installab dell'impossible ho fatto 7 mosaici che secondo me sono molto belli che adesso porto a Londra e so già che quella di Londra mi dirà ah ma questi sono recenti c'è qualcosa ma che insomma cioè li ho fatti adesso perché sono come sono io adesso uno specchio poi ho subito anche la chiusura della Polaroid la riapertura dell'impossible il disastro iniziale delle pellicone impossible anche io veramente impossible esatto no e noi anche io lavoravo esatto quindi abbiamo vissuto questi adesso che diciamo che sta rinascendo tutto è un entusiasmo nuovo no e quindi perché devo castrare l'entusiasmo per il mercato no infatti però i galleristi il mercato è veramente il suo gallerista di Torino che è stato anche mio mi diceva che io ero come un banco ma mi diceva quando ho bisogno di far cassa a Torino organizzo un po' di ritratti con i miei collezionisti con Galimba e tiro su un bel po' di soldi sai che bello cioè ma da una parte va anche bene che la gente ti piace però non va bene non va bene per me perché ti senti una macchina non va bene cioè è brutto è brutto è brutto quello che noto anch'io è che non c'è da parte dei galleristi stimolo diciamo a farti creare a farti andare oltre e poi una cosa Giovanni diciamocelo pure la tecnologia la Polaroid la tecnologia fotografica si è evoluta le tecniche le tecniche di stampa tutto quanto si è evoluto tu pensa alla Polaroid una volta avevamo il banco ottico la macchinetta integrale quella che usavo io poi potevi avere la diapositiva e la potevi stampare sul banco ottico la potevi stampare sulla pellicola istantanea da diapositiva eccetera eccetera oggi il vero problema è che non sai qual è la fine perché tu hai la Polaroid dieci anni fa quella che ho dato io a lei oggi una Polaroid dieci anni fa l'avevo scansionata l'ho messa in archivio oggi l'ho tirata fuori l'ho fatta con l'installation l'ho messa su bianco e nero volendo quello lì la scansiono e faccio una stampa e la rifotografo e la con la 50-60 faccio uno strappo quindi c'è un'evoluzione culturale infatti secondo me i workshop a venire devono proprio essere anche sul linguaggio mediatico dei media della fotografia cioè proprio dei media come mezzi tecnologici della fotografia perché si sono evoluti tantissimi e galleristi queste cose qua non li sanno mica non li sanno mica galleristi sono rimasti a livello arcaico cioè se tu gli vai a parlare ma solo che gli parli di un transfer da un file digitale cos'è se gli parli di un trans preferisco c'è un'ignoranza di fondo e quell'ignoranza lì comunque blocca perché blocca hai ragione però allora diciamo questa cosa qua io diciamo ritengo che lo spostamento è in atto diciamo un enorme spostamento ne parlo un po' spesso della professione di fotografo da diciamo come dire la fotografia ha avuto per moltissimi anni tutta una parte che era quella di ripetere il reale catalogarlo adesso diciamo l'elettronica sta portando via tutta questa parte di lavoro allora in certo senso i due settori forse però ve lo chiedo a voi si stanno un po' unificando cioè sopravviverà il fotografo anche professionista commerciale solo se apporterà un grandissimo come ha fatto peraltro Maria Vittoria tutta la vita un grandissimo tasso di creatività allora secondo voi esiste ancora una distinzione così netta tra fotografo d'arte diciamo e fotografo commerciale o andremo verso come dire la l'autorialità di tutte le fasi di tutti i tipi di fotografia futura guarda c'è un altro argomento che ha disfavore proprio dell'arte che è questa ricerca sempre della perfezione del pezzo unico hai capito che man mano tutti quanti noi io mi sono accorto a un certo punto che c'era un'assenza di vitalità ma poi questa cosa l'ispirazione alla pittura per esempio questo capisci questo continuo lavorare su un pezzo unico ormai diventano non è più fotografia di fatti a me mi sta riappassonando la fotografia stranamente quello che a me piace di fotografo in questo momento non sono le mostre che mi piacciono i blog di quelli un po' Benassi dei Luigi questi qui perché ho capito che la grande rivoluzione è stata una cosa che io detesto che è il selfie ma che era un'immissione di vitalità in una cosa che noi stavamo ripetendo penna vedo all'infinito ma poi sono fotografi commerciali penna sì sì lo sono sì lo sono lo sono perché secondo me la discriminante è lavorare su commissione o no chiunque lavora su commissione è un fotografo commerciale però voglio dire se ne può discutere a lungo però io ritengo che li adoro sono figlio di Avedo però li ritengo due fotografi commerciali cioè hanno ricevuto prebenda per ogni volta che hanno fatto una fotografia non hanno fotografato nel loro studio e poi venduto le opere secondo me è solo quella la differenza però secondo me quella differenza lì è molto labile sta diventando molto labile tu scusa tu però la corrispia è un punto molto importante tu invece ritieni che la fotografia sia quello che è nata per essere cioè più se ne stampano più se ne vedono più si un po' si la riproducibilità della fotografia a me mi è sempre piaciuta e questo fatto di diventare un pezzo unico disegnato eccetera eccetera mi sembra che si è sposto un po' dalla fotografia è mutua delle cose cose che ho continuato a fare anch'io adesso con il digitale sto ritornando a fare la fotografia e basta dei progetti fotografici e in qualche modo secondo te uno degli specifici fotografici è la infinita riproducibilità è un po' sì sì che invece diciamo col mercato dell'arte sarebbe la fine però sì beh sicuramente ad esempio allora innanzitutto sulla domanda che dicevi te che commerciale il mondo dell'arte sarà sempre questa barriera o no secondo me sui grandi lavori comunque c'è già una comunicazione che guarda il mondo dell'arte no stesso Giovanni ha fatto dei lavori straordinari con una progettualità che come approccio culturale sicuramente nasce dalla contaminazione con la storia dell'arte più che con la fotografia fino a se stessa per quanto riguarda il discorso della riproducibilità diciamo che i collezionisti l'unica riproducibilità che vogliono è quella accettano la scultura otto sculture sono un pezzo unico poi il resto è sempre un po' così poi diciamo che comunque nel mondo della fotografia in Italia ci sono state delle operazioni che hanno molto danneggiato la credibilità perché rendiamoci conto che quando uno compra una fotografia comunque che spende non so Vanessa Bicroft sono 20.000 euro un 70% edizione di 6 se poi dopo e questa cosa succedeva non succedeva con Ghirri perché Ghirri è morto che non c'era ancora la storia dell'edizione è morto nel 91 allora parliamo di tra Ghirri e Vanessa Bicroft facciamo degli esempi Ghirri cosa fa? firmava le sue opere e quando lui è morto poi che le sue fotografie sono state acquistate magari anche in maniera poco carina e poco onesta da parte dei soliti marioli galleristi perché la storia è un po' andata così e poi quando i parenti si sono accorti che li avevano un po' svenduti si sono un po' incazzati però c'erano sul mercato tanti Ghirri firmati da questo stampatore parigino da questo stampatore di Reggio Emilia e praticamente lo capisci perché sono dei vintage sono vintage vuol dire stampato dentro i cinque anni comunque stampati nel periodo di Ghirri perché erano sbiaditi erano delle fotografie a colori quindi si vedeva che era diciamo l'ammaloramento dell'opera che è dato dal tempo dalla fotografia che va protetta in certo modo perché non è che la fotografia la prende a mettere i raggi del sole perché si sbiadisce c'è niente da fare quindi e cosa hanno fatto i parenti di Ghirri? hanno fatto tipo quando c'è stata la mostra dell'Italia curata da Bonami a Palazzo Grassi hanno fatto le edizioni post-mortem firmate dalla moglie che poi purtroppo è venuta a mancare anche lei dalla Paola e quella cosa lì ha danneggiato tantissimo perché cioè perdi la credibilità come fai tu che sei un autore che non hai mai fatto edizioni niente muori i tuoi parenti hanno esaurito il bonus delle tue immagini e cominciano a firmare loro le opere a stamparle loro cioè li stampano loro e li firmano loro secondo me perdi completamente la credibilità soprattutto in un mercato dove c'è il discorso che l'edizione e la tiratura ahimè visto i costi facciamo finta che Vanessa Bicro fa sei poi un domani lei non c'è più le sue figlie fanno altri sei di quell'opera lì cioè vuol dire sputtanare il lavoro purtroppo sono due meccanismi diversi però scusate questo meccanismo di cui stiamo parlando tutta questa cosa è a discapito della creatività hai capito ma secondo me non c'è la creatività perché nessuno sa che tu fai delle altre cose capisci è un po' questo se tu oggi vuoi vedere un creativo è sul blog di uno che tutti i giorni si posta delle cose incredibili che è vitale che non deve venderlo in dieci copie e passare attraverso un gallerista hai capito e questo è un'immissione di vitalità nella fotografia però forse il mondo del blog è un altro mondo ancora è un mondo però tu se le guardi queste foto sono bellissime a parte il fatto che poi lì c'è la grande cosa sbagliata in cui tutti pensano che con un flashettino così questi fotografi poi sono fotografi che non sbagliano in quadratura quelli bravi sono comunque fotografi bravi che usano un mezzo diverso in una maniera molto tu saresti disponibile diciamo a fare una cosa tipo iTunes cioè per 0,99 scarichi la mia foto capisci cioè se si va non penso mai alla finalità perché a me la finalità è sempre pur campare questo non te lo so dire non sono mai questo non sono mai stato un genio guarda no ma però un'altra diciamo possibilità sarebbe quella di uscire io parlo solo di dove tu vedi che oggi la gente può essere creativa che dovrebbe essere il mondo dell'arte è questo che discuto hai capito che invece dal discorso di Maurizio è un mondo che ti frena completamente io sto parlando di questo poi dopo come vendiamo le foto così è un argomento in cui sono veramente però seguendo il tuo discorso ci sarebbe una possibilità di opporsi diciamo allo strapotere dei galleristi nel mondo usando diciamo il sistema che è stato poi utilizzato per la musica cioè scaricatevi la vostra foto per un prezzo ragionevole allora tu carichi lavori sui grandi numeri non lavori più sulla tiratura il mio discorso che i galleristi chiamiamoli così tutto quello che nel mondo nell'arte non favoriscono la creatività capito favoriscono il denaro e questa cosa è frenante perché tu potresti fare 100 progetti e sceglierne e continuare a farli dopodiché la loro bravura deve essere tra i 100 di sceglierle uno ma loro scelgono il primo che hai fatto e vogliono sempre quello hai capito è questo che vengono quello che vengono mentre quando tu lavori per i giornali io ho fatto ogni tipo di foto ho usato le polaroide ho rifotografato ho fatto questo ho fatto quell'altro ho fotografato la moda le cose tutto quello che volevo hai capito ho continuamente cambiato il che aiuta la creatività quello anch'io quello anch'io devo dire che noi abbiamo vissuto soprattutto la moda devo dire la verità ma noi abbiamo sempre vissuto la committenza come posso dire il mecenatismo in qualche modo e c'è stato sempre chiesto di andare oltre diciamo di inventarci qualcosa di più e io continuo a ripetere che per chi ha un'idea nuova ancora c'è molto spazio nella fotografia creativa insomma io trovo l'imitante che lui deve discutere con lo suo gallerista di quante edizioni fare di quanto costa di quanto cosa e si occupi solo di quello invece non ti fa fammi vedere tutti i nuovi progetti parliamone ma questo è bello andiamo avanti cioè capito il gallerista deve avere anche questa funzione un pochettino il gallerista è un commerciale e non è un creativo e allora il mondo dell'arte è corpo re è lui il fotografo commerciale non sono io allora ma non è questione di essere fotografo commerciale è questione che io ad esempio la penso come lei cioè io comunque produco tanto come dice Dennis che sovrapproduco però io produco ma poi me li tengo lì perché alla fine c'è uno studio pieno che poi magari sarà quella cosa che quando mi tocco le palle scurate il tema e sarò morto mio nipote vivrà vendendo le mie foto va bene però quello che voglio dire io purtroppo il problema veramente sono i galleristi e chi gestisce il mondo dell'arte che è un mondo che secondo me se va avanti così è anche alla fine perché il mondo del sistema delle gallerie con internet eccetera eccetera non so quanto può ancora durare o trovi ad esempio adesso mi hanno chiamato una galleria di Milano con la quale io non ho mai lavorato che oltretutto è un parente stretto di Giovanni Gian Galeazzo Gian Galeazzo di Sconte che fa questa mostra su il nudo dove ci dovresti essere anche te con le Polaroi è stato carinissimo perché mi ha detto le mie non sono nude io gli ho dato dei nudi no era un Polaroi io ho fatto tutto il nudo perché sei il solito mascherazione ma no perché avevo questo progetto e quindi glielo ho dato però la storia è questa qua che Gian Galeazzo è il primo che dice guarda il tuo lavoro mi piace e quindi scegli tu quello che ti rappresenta la mia galleria è questa qua me l'ha fatta vedere gli spazi sono questi qua io ti posso dare quello spazio lì oltretutto quando entri provi dei brividi perché era lo studio di Lucio Fontana quindi stiamo parlando di una galleria veramente con delle sale che avrà sei sale che sono grandi come questa quindi no come questa no diciamo che sarà grande un po' più di questa tutte insieme quindi veramente una grandissima galleria in un posto magico di Milano quindi per uno che ama Milano è ancora più contento di esserci poi c'è Giovanni c'è Schifano c'è Mollino quindi sarà una bella mostra ecco lui è il primo gallerista che ha detto fai te io ho fatto ho scelto le foto adesso ho stampato un catalogo che io chiamo quaderni per me ma proprio per la mia voglia di fare perché in quel quaderno lì ci sono dentro io con i miei sogni la mia fotografia la mia ricerca la mia progettualità il problema io condivido quello che dice Maria Vittoria però è il problema che bisognerebbe sparargli i galleristi abbattete i galleristi è quello bisognerebbe abbattere i galleristi perché ragazzi veramente i galleristi sono una mandria di a parte che cioè è inutile negarlo cioè il mondo dell'arte muove talmente tanti soldi lasciamo perdere Galimbertio ma il mondo dell'arte in generale muove talmente tanti soldi che lì ci sono dentro i riciclaggi ci sono dentro i falsi prendiamo i falsi cioè uno dice perché fa un falso minchia fa un falso di Lucio Fontana cioè fa un falso di Lucio Fontana si mette d'accordo con la fondazione un povero cretino che crede di comprare un Lucio Fontana vero che oramai costa un milione di euro si tira fuori un milione loro lavorano bene non so vi racconto un aneddoto che quando hanno arrestato quello di Mare Scalchi era quello di Bologna questo qui ha praticamente plagiato un'opera di Giacometti una scultura di Giacometti e sapete come si sono accorti che era un plagio perché allora il collezionista dà alla fondazione l'opera di Giacometti per esporre era un'opera alta circa sul metro e settanta poi dopo un po' torna indietro torna indietro l'opera e tutto quanto il collezionista aveva la certificazione e tutto quanto che poi era stata data l'assicurazione la cameriera del collezionista gli dice che è una un'indonesiana quindi non credo una cingalese quindi non credo che sia cresciuta a 35 anni gli dice dottore ma sono diventata più alta perché prima per arrivare in testa a pulire Giacometti prendevo lo sgabello e adesso ci arrivo senza allora il dottore si è accorto e dice ma come non ci arrivo e dottore prima ci arrivavo con lo sgabello adesso ci arrivo senza praticamente gli avevano restituito un falso e uno dice ma fai un falso e minchia fai un falso si sono fregati 3 o 4 milioni di euro minimo tranquilla quindi è diventato è un mondo che perde anche di credibilità purtroppo per fortuna che le opere di Giovanni o le mie o le sue non si possono tanto copiare però è veramente triste questa cosa qui però il problema non siamo noi il problema sono i galleristi non siamo noi peccato ci vedeva un gallerista e poi quando lui diceva quando lui diceva della comunicazione allora io dico una cosa io dico cazzo scusate la parola c'è una banda di caporedatori di creativi di creativi ci sono dei creativi che sono una banda di coglioni mai visti io sono andato da un creativo di una grandissima agenzia di pubblicità gli ho parlato di Roland Barthes ma non sto scherzando perché parlavo del punto della composizione del frammento dell'immagine e questo qui a un certo punto mi fatti volevo quasi da chiedere se era il portiere della Francia però si chiamava Barthes cioè un creativo come cazzo fa a non sapere chi è Roland Barthes uno che è stato fondamentale per la storia della comunicazione della fotografia ma della comunicazione io dico sempre di scandire bene quando dicano creativo perché mi sembra cretino cretino esatto anche quando lo dicano di me è allucinante è allucinante gente che poi viaggia con delle gabbie mentali allucinanti che se non fai così io posso raccontare di come ho smesso di lavorare per la comunicazione nel 95 per l'editoria feci un lavoro per casa amica che era una copertina sui mobili d'oro allora dovevamo andare in via Morimondo lì dove c'erano gli studi della Condenasta e c'erano questi mobili d'oro io arrivo lì e dovevo scattare con la Polaroa per cui avevo fatto preparare un panno nero per usare come fondo arrivo lì c'era un sole che spaccava le pietre sul muro con questo panno nero prendo il panno nero lo muto su sul muro di recinzione e praticamente poi assieme ai due che c'erano lì assistenti quelli storici della Condenasta prendiamo i mobili appoggiamo lì faccio 8 a Polaroid ho finito il lavoro 8 e mezza ho finito il lavoro ma era una più bella ma no era veramente quello che voleva la direttrice arriva lì la caporedatrice e fa l'account l'account del servizio dice ma io non c'ero ma cos'è questa cosa qua io queste foto qua non le voglio neanche vedere ho detto ma per me è il servizio scusa tu hai chiamato me ti fidi di me questo qui è il lavoro che rappresenta e quante fotografie hai fatto erano 7 mobili mi hanno fatti 8 perché uno era venuto un po' mossa e quindi però glielo l'ho lasciata e quindi mi fa ah tu con un caricatore hai fatto tutto un lavoro ho detto ma perché che conta è la quantità o la qualità allora alla fine lei mi ha detto no no montiamo tutto tra le altre cose non c'era l'ombra bisognava mettere le luci in studio ricreare io gli ho lasciato lì la macchina fotografica e me ne sono andato gli ho lasciato lì la macchina fotografica e gli ho detto guarda falle te io gli ho fatti e poi dopo ha avuto anche la copertina di casa di casa voga quindi cioè ma vaffanculo però voglio dire cioè scusate la parola però cioè ma perché perché tu che arrivi poi era una che sarà uscita da l'OIED da due anni perché devi venire lì che a tutti i costi ci devi mettere i piedi in testa perché parliamoci chiaro quando uno ad esempio Giovanni è un monumento della fotografia di moda eccetera eccetera cosa credete anzi diciamo cosa cazzano credete che una non gode una ragazza che ha magari 29-30 anni che deve fare un servizio con Giovanni di moda e dentro l'idea di lei non avrà l'ego di dire però io sono davanti al grande gastel e gli faccio fare quello che voglio io perché quelle lì sono molte sono così non aspetto altro sono così ma quello che faccio io con la fotografia ahimè quindi è questo no Giovanni è questo è questo quindi cioè io basta non ho più lavorato perché ho detto ma vaffanculo vendo le foto lavoro per la Polaroa senti Maria Vittorio mi mandi a fare lavoravamo nello stesso periodo su Voco Pelle con la Sozzani ah sì sì esatto mi ricordo anche con la Dorotea Balof sì sì con la Dorotea Balof per equità adesso tu dovresti mandare a darvi al culo qualcuno con chi ce l'hai le redattrici i direttori beh ce l'hai un po' parecchia gente negli ultimi tempi ma sì ce l'ho perché hai capito non rie cioè ormai tutti cercano fotografi esecutori ce l'ho e ormai è così hai capito perché ognuno di questi creativi è convinto che la fotografia non conta niente che tu sei un esecutore è un po' è un guaio per i giovani perché quando tu cominci ti adatti no e questo è il disastro della fotografia che ormai ci si è andata a lavorare gratis e fare l'esecuzione di una foto io non voglio fare l'esecuzione perché a quel punto cioè non sei più niente non so voglio dire tu come me ritieni che la parte creativa è quella essenziale ma sì di fatti mi continuo a domandare se i pittori non dipingono più gli scultori verrà un momento che noi faremo solo il video ci sarà un altro che fotografa solo l'idea la trasmetteremo a una macchina che sta da un'altra parte del mondo verrà fuori la foto come cioè ormai hai capito c'è questa cosa però penso che invece il rapporto con la macchina fotografica è sempre per un fotografo molto importante però è vero anche quello che racconta lui che spesso tu ci metti 5 minuti e fai una foto e viene benissimo allora non va bene hai capito devi stare lì e fingere di macerarti nella disperazione finché non esce la foto poi certe volte ci stai tantissimo però diciamo sentendo i vostri i vostri punti di vista si direbbe quasi un mestiere morto questo qui invece io non sono tanto d'accordo per il momento non goda di buona salute possiamo dire questo mi sembra che per il momento non però io continuo per esempio a fare dei progetti che sono i miei progetti li tengo nel cassetto che ne so cosa succederà penso sempre cioè per assurdo hai capito che ci dovrebbe essere un sistema per esempio questo posto qui che fa spavento perché non lo si riempie di fotografie che costano poco perché ne vendi tante e così girano e tutta la gente ne può usufruire per esempio nei luoghi pubblici cioè secondo me bisognerebbe trovare dei sistemi così che escono un po' da questa logica che ci ha raccontato lui della gallerista con i soldi quello che si divide che deve costare tanto se no tu non guadagni hai capito è quello che ti dicevo cioè usare forse un po' il sistema che ha usato la musica grande diffusione a poco prezzo siccome le immagini continuano a essere e continuiamo a produrle tutti quanti a un certo punto dovranno avere un altro mai un'epoca ha visto una produzione più spaventosa di fotografie di questo ci sono 3 miliardi e mezzo di fotografie postate al giorno cioè la fotografia trionfa nel mondo e forse però allora è il mestiere di fotografo che va rivisto perché non è in crisi la fotografia la fotografia ci sono 3 mila foto di queste 3 mila ce ne sono sempre 10 buone però diciamo la verità cioè fare il fotografo non è così facile però la loro funzione secondo me non è più essere buone ma è parlare cioè da un lato Giovanni tu fai le foto di moda Olivero fa le foto di moda diverse a te l'altro fa le foto di moda quando sono dei professionisti tu guardi queste foto io lo so perché conosco la difficoltà non c'è mai una gamba fuori posto una cosa così sembra foto presa in 5 minuti però c'è un mestiere dietro enorme capisci non è che questa quantità di foto poi tutti hanno la stessa valenza però raccontano tanto del nostro mondo questo sì è successa una cosa diversa da un lato la fotografia attraverso i social network è diventata una lingua come la parola scritta dall'altra però chiama i professionisti sia quelli come noi che lavorano su commissione sia quelli che lavorano diciamo in proprio per commercializzare le opere a un cambio come posso dirti e un approfondimento maggiore delle opere cioè secondo me non è negativo in assoluto questo momento per i professionisti ma impone ai professionisti un cambio profondo non è negativo per la produzione di fotografia è negativo per la diffusione delle fotografie sì però io penso che ci sia spazio maggiore hai detto autorialità cioè dobbiamo diventare ancora più autori non sì ma sicuramente comunque poi il mercato che sia della comunicazione o dell'arte comunque premia la meritocrazia io penso che sì perché ad esempio prima parlavo con Giovanni Giovanni è un figlio di 27 anni che è il manager degli One Direction cioè del più grande gruppo rock adesso e come ha fatto arrivare per merito con un bel curriculum cioè è andato a Londra si è fatto il culo ha studiato si è impegnato e quindi secondo me bisogna credere ai propri sogni credo che però noi dobbiamo ragionare tutti insieme su quello che sarà la figura del fotografo futuro ma ad esempio Calvino che non è quella del fotografo presente in larga misura Calvino nelle elezioni americane quando diceva che alle soglie del 2000 siamo bombardati di immagini questo lo diceva nell'84 per cui bisognerà riciclare le immagini che già esistono partendo dall'essenza o ripartire da zero che è impossibile citavo a Samuel Beck come lo scrittore e questa cosa qui secondo me nella fotografia è importante perché nella fotografia anche tutti questi blog con tutte queste storie comunque possono essere anche l'infa creativa l'infa vitale metodo di confronto metodologia di ragionamento di discussione quello assolutamente sì poi è logico che comunque la fotografia di un certo tipo rimarrà sempre come dire tutti giochiamo al pallone però poi c'è il campionato c'è la nazionale secondo me una meritocrazia e una qualità top ci sarà sempre perché se no viene svilitto tutto almeno io penso questo tutti facciamo i video i filmettini però c'è di Lucchino Viscotti ce ne saranno ancora ecco poi tu lavori su un progetto su un progetto esatto esatto certo oggi oggi c'è ad esempio da stupirsi io ho visto prima parlavo con Giovanni del suo zio di Lucchino e l'altro giorno ho visto un film che mi fa veramente cagare scusate il termine questo yut yat no ma bisogna usare questi termini con quella gente lì perché c'è quello di Sorrentino c'è un film di una noia mortale che io l'ho visto tre sere non ho ancora riuscito a finire a vederlo perché mi addormento perché veramente non c'è niente c'è un film che non racconta niente allora dico come nel cinema ci sono dei bui pazzeschi pensiamo al cinema italiano come è andato giù sicura ecco io se fossi un giovane dico cazzo faccio cinema va bene devo cercare di tirare sul cinema italiano di ripartire da quello che era e dove è andato a finire adesso che la grande bellezza che è un film del cavolo non uso ancora le parolacce ha vinto l'Oscar e quindi diamoci conto di dove è l'Oscar oppure Sorrentino che fa così allora ripartiamo da zero e questa cosa ci saranno sicuramente dei giovani che guarderanno i fotografi di adesso quasi 60 anni come possiamo essere io o come lei che comunque dicono cercherò di cogliere qualcosa da loro e di andare avanti diciamo che noi possiamo essere anche di stimolo noi e con tutti quelli che fanno i blog eccetera eccetera perché alla fine io penso che la nostra funzione diciamo adesso interdisciplinare al di là appunto delle diversità di utili come dire anche di concepimento e della fattografia è quella però di disegnare un po' un futuro per i fattori giovani insomma volevo una parola del mio amico Maurizio Rebuzzini Maurizio dici qualcosa sull'argomento qualcuno vuole intervenire siamo pronti ma va bene no ma l'argomento è sicuramente affascinante sicuramente non c'è il contro perché non c'è motivo che ci sia un contro io lui ha fatto di tutto ma lui non gioca a 3-7 Ciappano a 3-7 Ciappano se hai le carte tue ti fai la partita se giochi contro qualcuno non ti va sicuramente bene quindi ciascuno si giochi la partita con le carte che ha una piccola precisazione su Avedon e su Penn che comunque come tutti i fotografi di cultura statunitense alternavano anche il non commissionato gli esempi clamorosi di Avedon sono stati la serie dei ritardi nel Middle West raccolti poi in un bel volume quelli di Penn gli small trades i lavori umili che lui fotografava di sera nella stessa sala di posa in cui durante il giorno faceva l'alta moda guarda era un po' una provocazione perché qui se tu hai lavorato per il giornale o la pubblicità sei un fotografo che non è in grado di produrre delle buone foto un po' c'è questa cosa di fatto io l'ho detto apposta perché so che loro facevano i loro lavori come li faccio io non è questo era solo la stessa discorso il problema era una cosa che si è spesso ci si dice tra di noi che si è fotografi non nelle ore del lavoro cioè non solo limitatamente alle ore del lavoro si è fotografi con un pensiero con una mentalità sicuramente una progettualità sempre il caso di Avedon che è chiaro che negli Stati Uniti fu un momento emozionante il 22 novembre l'assassino di Kennedy e lui va per strada a fotografare come la gente reagisce i giornali con i titoli a caratteri cubitali eccetera eccetera che non avevano nessuna aderenza con una vendita editoriale immediata secondo te loro però avevano una secondo te loro come dire ragionavano in termini di arte perché secondo me no avendo parlato con Avedon di questa cosa lui disse che lui ragionava in termini di fotografo cioè un caso emozionante come l'assassinio Kennedy che per gli Stati Uniti fu folgorante fu devastante e lui si è posto il problema che come fotografo come poteva partecipare a questo non altro che col mezzo fotografico però l'assunzione di no no capisci secondo me è una cosa molto recente sì è molto più recente l'assunzione di questa cosa tant'è che poi tu giustamente Maurizio rilevi il caso di Ghirri e il caso della vendibilità di qualcosa che ai tempi non c'era quindi non ci si poneva il problema tra l'altro nel mondo del collezionismo c'è stato due settimane fa la prima Asta Bolafi fotografia e il 90% delle foto era un fotostampa fotostampa non restituite perché chi è che si faceva restituire le foto una volta nessuno nessuno per cui era un fotostampa con il timbro dello studio piuttosto che neanche le firme però era un fotorimediate e se qualcuno vuole domani mattina andare al mercatino di piazza lì mercanti quell'ex nasce filatelico e numismatico ma altre cose spesso si trovano avanzi di archivi dei giornali tra parentesi la butto lì io le compero alcune volte perché il retro è più bello del fronte cioè il retro col timbro gli usi le misure le annotazioni diventano un vissuto però Maurizio mi interessava una domanda scusami finisci finisci pure però appunto poi lo specifico è cosa nel caso dell'arte cosa appunto il mondo mercantile richiede però ecco una cosa che ho detto prima i collezionisti amano il feticio cioè prima si parlava di Avedone Pen io ho visto un collezionista proprio adesso una vendita una fotografia di pen stampata al Selenio e quella più preziosa al Palladio la stessa opera fatta 4-5 anni di diversità pagata 35.000 euro in più solo perché era al Palladio era firmata ma non è anche solo un feticio sul quale peraltro condividerei c'è anche questa cosa che conta molto c'è anche questo fattore che non abbiamo detto prima però appunto il mondo commerciale il mondo mercantile poi che ha bisogno di invenzioni poi in America hanno anche un problema rispetto a noi fondamentale noi siamo ancora in un paese che se vai in un antiquario una stampa di piranesi strappata da un libro a 200 euro te la trovi ancora negli Stati Uniti non te la trovi ecco che c'è il bisogno di vendere fotografie a 200 dollari a 300 le quali poi tirano quelle da 1000 quelle da 10.000 eccetera eccetera e il caso è la Vivian Meyer adesso che non è niente cioè è una signora che faceva delle foto dignitose però adesso diventa la grande artista che magari tratta anche male i bambini nel suo essere balia però Maurizio come storico nella tua doppia funzione di fotografo da una parte ma anche di storico della fotografia dell'arte tu senti ancora diciamo delle categorie nella fotografia o non le senti più? no non ci sono più queste categorie nette di una volta non esiste più no perché i giovani fotografi scrivono artista invece di scrivere fotografi all'inizio della loro carriera che fa più scena forse fa più scena ma cosa è che ti dà la sicurezza che stai producendo dell'arte il fatto che non c'è una definizione di arte cioè Maria Vittoria è più gratificante non guadagnare da artista che non guadagnare da panettiere o anche da fotografo o da fotografo cioè io preferisco non guadagnare chiedendo 10 miliardi che non guadagnare chiedendo 1000 lire ecco posso dire non mi hanno voluto perché era troppo caro non perché non valevo nulla però chi dice questo e poi ci sono anche delle impostazioni delle nostre di alcune delle nostre scuole di fotografia che indirizzano sull'espressività fine a se stessa senza capire che la vera espressività è l'assolvimento di un compito cioè Dovima con gli elefanti di Avedon fu fatta per Dior e adesso noi la celebriamo come una grande fotografia che appartiene alla storia della fotografia senti senza fare come posso dire il minimo paragone però sta succedendo a me una cosa abbastanza strana cioè che le mie fotografie che erano una cosa che sognavo succedesse quando ho cominciato a fare il fotografo appunto non avendo ma io non so se avrei fatto mai il fotografo d'arte io amo molto la mia natura di fotografo su commissione diciamo però sta succedendo una cosa strana cioè che molte delle mie fotografie che erano state fatte per una funzione contingente superano quella funzione cioè ormai vengono vendute come opere e nessuno mi chiede più ma per cosa è una foto fatta per Vanity Fair è un bel lavoro perché è un bel lavoro questo devo dire è quello che c'è la qualità Giovanni questo è un doppio fascino uno che è il fascino che una volta che la fotografia ha assolto il suo compito istituzionale originario percorre un'altra via ripeto racconti la storia del mondo racconti perché poi la missione della fotografia è quella di raccontare l'uomo all'uomo e ogni uomo a se stesso se vogliamo come idea come ipotesi e come missione e anche la visione che ognuno di noi ha leggermente distonica da tutti gli altri quindi è anche questo l'altra cosa che secondo me appunto è fondamentale è cosa la gente trova in sé della fotografia la fotografia rispetto all'arte ha una caratteristica discriminante fondante che l'arte pittorica scultorea classica rimane sempre vincolata al suo autore cioè noi conosciamo la gioconda di Leonardo ma non sappiamo chi fosse questa signora probabilmente era una fototessera in origine come idea come voglia anche dalle dimensioni una grande carta d'entità però la fotografia invece vive sempre sul suo soggetto questo è fondamentale cioè la fotografia di Eddie Adams del generale che spara in testa al Viet Cong è sempre il generale che spara in testa al Viet Cong rimane rimane in sé rimane in suo fatto rimane in sua certificazione che poi questa non sia realtà e lo sappiamo bene un altro discorso però il mondo dell'arte è curioso poi è curioso più di Galimba che ha altri percorsi la storia di quelli che come Cindy Sherman e altri nascono però quelli si esprimono nel mondo dell'arte con la fotografia che è un altro caso diverso questo è un caso diverso nel mondo dell'arte dove tu dici giustamente non si fanno più quadri non si fanno sculture arte cos'è tante altre cose anche la fotografia però per dire Pollock che è il primo a usare le velici industriali non c'entra con la Max Meyer quindi Cindy Sherman non c'entra con la fotografia c'entra col mondo dell'arte Whitkin c'entra col mondo dell'arte però anche Maurizio Maurizio già meno Maurizio ha una dentellato che non si esalte è pari a Manrai come ipotesi perché parte da una progettualità fotografica da una progettualità che comunque è fotografia però secondo voi per quelli che per esempio io non so perché faccio adesso dico una cosa molto personale ma io non so cosa sto facendo io so solo che se faccio fotografie sto bene se non faccio fotografie sto male allora come dire non so in che categoria definirmi dei nefandi a Degdatz come si può dire la mia ultima riflessione sopra la butta è la nefandezza della fotografia è per la prima volta nella storia dell'umanità un mezzo creato dall'uomo che ha reso permanente ciò che deve essere temporaneo che non ha fatto l'arte non ha fatto la pittura cioè questi accadimenti o in sala di posa così devono rimanere temporane noi abbiamo resi quindi probabilmente siamo nefasti però un dibattito che potremmo ricominciare vorrei chiedere adesso a Maria Vittoria e a Maurizio proprio questo cioè cos'è che vi fa fare fotografia nel profondo a parte cioè cos'è se uno va nel profondo di solito lo sa io ti dico io lo faccio perché sto bene perché mi fa stare bene a partenere all'umanità perché mi fa stare bene però mi interesserebbe molto sapere forse sai il tuo modo di essere cioè io sono la fotografia io la mia vita è quella cosa lì ecco non c'è di afframma tra quello che fai e quello che sei non è che sto bene però se non lo faccio mi sembra strano cioè mi sembra di non vivere cioè è abbattuto come dico io ed è quello che fa un autore secondo me la barriera tra quello che sei e quello che fai no? sì ma penso che parecchi pittori ma io credo che sia indispensabile sì quello che trovo cioè che noi raccontiamo il mondo cioè ci deve essere sempre questo racconto che è la cosa più importante ti senti un po' uno che racconta il mondo ma in effetti è un'esigenza tua di continuare a fotografare io lo racconto come vorrei che fosse per esempio quello vero non mi interessa tanto comunque è un racconto sì e Maurizio invece io penso che per me è un'ossessione è quasi un qualcosa che ti ha preso in testa e che ce l'hai dentro e non ne puoi fare a meno cioè è veramente un qualcosa di un bisogno fisico per me la fotografia proprio ci sono proprio delle mattine che per dire stamattina mi sono alzato ieri sera ho visto quell'immagine lì mi sono detto ma la notte ci ho pensato stamattina mi sono alzato ho fatto questo lavoro però non è un lavoro ho diciamo scaricato la mia ossessione cioè è proprio un bisogno fisico e poi Giovanni ti volevo dire quando tu dici che il mio lavoro che sta venendo fuori che era nato per fotografia adesso entra nel mondo dell'arte perché lì è è il tempo secondo me è quello che dà il valore alle cose è il tempo cioè Panza di Biumo il famoso Giuseppe Panza di Biumo che è stato uno dei più grandi collezionisti al mondo non italiano visionario addirittura lui aveva chiesto di fare il Guggenheim nella sua villa poi i politici gli hanno detto di no hanno fatto il Guggenheim a Bilbao e ha tirato il museo ha tirato su tutto economicamente una regione e quello che diceva lui alla domanda se lui avrebbe comprato se lui avesse comprato il Michael Jackson di Jeff Koons a 12 milioni di dollari lui disse per adesso non spendo un dollaro bucato se tra vent'anni costa un milione lo compro quindi è il tempo che dà il valore il lavoro di Giovanni quello che io so che le immagini si riferisce sono delle immagini straordinarie che hanno sono passate attraverso epoche sono attraverso passate oramai anche attraverso i decenni e sono immagini talmente forti significative che poi adesso che c'è proprio questo gioco della contaminazione tra la pittura la fotografia la scultura e secondo me hanno la giusta collocazione che meritano perché la tua progettualità comunque solo per il background familiare che hai non nasceva solo da quella del fotografo ma comunque da una storia molto più ampia ecco io penso questo grazie mio amor io invece sono nata che nessuno fotografava in famiglia nessun artista non ho capito come sono arrivata qua ma per esempio tu mi domandi perché fotografi l'ultimo esempio che ti posso fare noi andiamo a Filicudi tutti e due sì sì siamo Filicudari siamo Filicudari e mi ha sempre meravigliato che anche i giovani ogni volta che vanno Filicudi fanno una foto che è sempre di uno straccione contro la porta scrostata con la sedia di paglia in ciabatte voglia la fanno è una cosa insopportabile perché i Filicudari in questi vent'anni li abbiamo visti diventare figli della televisione del calcio delle cose allora io adesso sto facendo un progetto che è complicatissimo così che non serve assolutamente a niente meraviglioso che li fotografo come se fossero attori di Vanity Fair è come loro si vedrebbero hai capito quindi li faccio vestire li faccio mettere in una cosa ed è un racconto su questo posto hai capito c'è sempre il progetto che hai tu poi non sai cosa ne farai questo è vero capito è un'esigenza tua di fare questa cosa credo che questa posizione chiarifichi a tutti i ragazzi che fanno fotografia insomma qual è l'atteggiamento giusto non si fa fotografia per i soli non si fa fotografia per la gloria in fondo diciamo poi se arrivano siamo tutti felici ma è una specie di necessità insomma è una necessità profonda lo fai per te stesso lo fai per te stesso è un dolore perché rinuncia a tante cose per la fotografia cioè rinunci a io quante cose che rinuncio perché comunque devo fare questo che è stato sempre legato alla fotografia ma anche per il piacere di farlo perché comunque ti fa stare bene cioè oggi questo pomeriggio potevo andare con mio nipote che mi dice sei l'unico nono che non mi porta all'asilo che non mi viene a prendere te credo io sono sempre in giro però per il piacere della fotografia che è una cosa che va oltre diciamo la ragione siamo qua a parlare di fotografia pensa io che potevo andare con una delle mie numerose nipotine è una cosa bellissima quindi io c'ho un nipotino vero non è femmina io purtroppo vedo poco io potrei andare con il mio toy boy che sono io io nutro per questa donna una passione di tipo sostanzialmente erotico è innegabile purtroppo c'è il suo marito ma di solito si volete domandare qualcosa a questo consesso abbiamo con noi una grandissima make up artist si presenti buonasera Letizia Maestri io ho avuto anche piacere circa 20 anni fa di lavorare con la signora Baccaus comunque volevo chiedere questo come fotografa e chiaramente donna che rapporto cioè che cosa ha dovuto rinunciare per poter essere riconosciuta fotografa intanto tutti i miei colleghi li vengono chiamati maestro e mai me lo dice nessuno perché maestra suona un po' elementare una cosa che per noi donne è sempre un po' difficile ma guarda intanto non c'è differenza nelle foto di una donna e un uomo secondo me sono irriconoscibili sempre questa cosa ma sì sai come tutte le cose attrici gente così che ha delle passioni io per esempio per vari motivi non ho avuto figli e penso che se avessi dovuto avere dei figli non avrei potuto fare il lavoro che ho fatto capito ma sono cose della vita che normalissime cioè non c'è niente capito sì hai difficoltà in Italia molto molto cioè fai conto che io fotografo l'arredamento da 40 anni no entro in sala posa dove mi conoscono tutti da 10 anni che vado in quella sala posa a fotografare e quando gli operai devono mettere le luci vanno dal mio assistente che è un uomo e gli dicono dove metto le luci e lui regolarmente dice rivolgetevi al fotografo e questo succede sempre ma io un po' mi sono abituata mi viene da ridere e passa a me succedeva e succede adesso un po' meno perché sono più conosciuto ma da ragazzo mi succedeva non perché fosse una donna ma perché avevo la giacca allora i miei assistenti avevano quelle giacche con tutti capisci io avevo la giacca sì quella per schiattore allora andavano tutti diretti da lui a dirgli lei è il fotografo buongiorno ben arrivato perché io non avevo l'abbigliamento da fotografo ti assicuro che se sei una donna questa difficoltà ce ne hai molto molto di più un consiglio che può dare alle giovani fotografie perché ci sono tantissime donne fotografie molto brave che io vedo anche capita anche di incontrare conoscere con un consiglio utile a queste ragazze ma non c'è differenza tra un uomo e una donna io poi consigli non ne so dare mai secondo te ci sono ancora delle preclusioni adesso molto molto meno cioè calcoli che a me non mi mandavano perché ma per delle storie assurde cioè io volevo farla reporter all'epoca i direttori giornali pigliavano una stanza d'albergo per 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 il fotografo e il coso perché c'erano pochi soldi e non mi mandavano io lavoravo con Guido Vergane e a un certo punto lui era disperato che doveva prendere un altro fotografo capito cioè sono delle cose che adesso penso non esistano più capisci è un mondo di maschilisti quella fotografia questo è vero i fotografi sono un po' così e ci sono poche donne ci sono ancora poche donne fotografie che quando tu vai a vedere le mostre le cose così sono una vera ancora minoranza è vero che ci sono tantissime donne fotografie giovani bravissime adesso ce ne sono veramente tante come stai se hai riuscito a fare una grande mostra con le vostre interviste radunando 30 fotografie sembrano mai straordinarie cioè c'è una realtà che cresce però posso dirti queste 30 fotografie su questa cosa io ho fatto una grande riflessione erano 30 donne che hanno raccoltato la storia dell'Italia poi erano fotografie affermate nessuna di loro è conosciuta come i loro uguali uomini a livello di libri di mostre capito eppure se guardavi la produzione di questi 30 è una cosa straordinaria capito c'è sempre comunque un po' una difficoltà c'è sempre un po' c'è onestamente grazie mille signori qualche domanda sì eccolo là vieni qua però così ti sentiamo sì bravo finalmente aspetta che ti diamo il microfono se no non vieni non sei in diretta buongiorno a tutti io seguo l'associazione da un anno e mezzo abbondante la domanda che voglio porre soprattutto ai ragazzi sì giovani artisti come dire che hanno voglia di esprimersi la domanda è se l'ossessione di cui parliamo è quella che la mattina ti fa svegliare e ti fa creare la domanda che io mi pongo sempre è questa è consenso della realtà come si fa a monetizzare questa ossessione che poi chiamiamo arte o meno non sono qua per avere io lo so per avere una risposta sì sì però siccome non è la prima volta che sento dire redazioni che non capiscono galleristi allora la domanda che mi faccio è come si fa ad abbattere in un modo civile e comunque costruttivo questi ostacoli che oggi chiaramente credo quelle giovani generazioni io parlo a pancia vuota in qualche modo rilevano io una risposta ce l'ho e se vuoi te la do il problema della vostra generazione è che voi portate diciamo un risultato e lo so perché vedo centinaia di book portate un risultato buono medio cioè arrivate a un certo punto in cui fate una buona fotografia una buona illuminazione eccetera quello che purtroppo fa sì che tu lavori non è quello quelli sono quelli che nel calcio si chiamano i fondamentali che servono per imparare a giocare a calcio dopo c'è un discorso più profondo che è quello della tua diversità se tu arrivi in una redazione con una piccola novità capisci non devi dire beh ma io faccio le foto più o meno no 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 io faccio delle foto che sono leggermente non dico rivoluzionari ma sono leggermente diverse allora se tu arrivi con questa cosa e arrivi anche con un po' di intelligenza cioè vai da una persona che vede centinaia di book alla settimana e si stufa molto se vai con 700 fotografie già si stufa se vai facendogli vedere che stai fare still life moda reportage ritratto bellezza quello dice ma cosa vuol fare allora tu devi andare con poche foto e molto personali perché quello che deve nascere in quell'altro è dire ma se voglio questa cosa interessante e nuova cosa devo fare cerco di farla fare ai fotografi che già ho no no chiamo lui la sa fare perché la prima volta ti fanno fare una cosa che loro devono vederla perché sai com'è è più sicuro se la vedono già allora io vi consiglio di mettervi in comunicazione con voi stessi come dico spesso darvi un aggettivo tu sei timido arrogante violento qualunque aggettivo può dare origine a un'estetica e rende tutto più semplice non per l'eternità però tu cerca la tua differenza perché come dico spesso sei unico nell'universo nella storia di tutti i tempi allora questa differenza qui è vendibile il fatto se tu porti un book che altri duemila fotografi possono fare perché devi essere scelto sono d'accordissimo però dico sempre se uno è consapevole della propria diversità nel senso sa che può venderla la domanda è come mai spesso si chiudono gli occhi si chiudono le orecchie perché la diversità non è palese perché se tu hai dieci foto in cui ti stampi nella memoria dell'art director del direttore lavorerai perché io lo so perché lo vedo può avvenire nel breve terzo cioè nel senso può avvenire anche domani mattina adesso io non conosco il tuo lavoro ma se il tuo lavoro se io art director se io art director vieni tu ti siedi lì mi apri un book in cui non ce n'è duemila di foto in cui hai fatto qualunque cosa più o meno come gli altri ma c'è una cosa che sai fare bene che può essere un view ti parlo della mia foto di moda ma vale per tutto un beauty con un'illuminazione particolare la moda vista in un ma non ti dico non rivoluzionario ma una piccola componente di diversità invece arrivate tutti con lo stesso book maledetto in cui c'è sempre la stessa foto non brutta ma scusa secondo me il difetto è pensare prima alla committenza cioè tu produci per vendere o per vendere a qualcuno se tu già pensi questo già fai una foto che è già stata fatta tu devi fare una foto che non è mai stata fatta bravo ti dico l'esempio per esempio mio io ho cominciato a fare degli still life molto te la rifiuteranno tutti la foto non fatta all'inizio non è così poi essenziale però intanto l'hai fatta e poi uno che la capisce lo trovi io facevo degli still life per esempio molto allegri divertenti ironici però avevano delle componenti che mancavano nelle riviste quel tipo di still life lì non c'era e allora piuttosto che farlo fare a un altro l'hanno sempre fatto fare a me capisci? allora potevo arrivare facendo vedere che facevo anche i book scusa i beauty la moda sì perché qualche merda di foto di merda la facevo ho scelto di far vedere le due foto più no le foto di merda che non potete neanche immaginare poi ho fatto uno o due still life e ho detto beh questi qui però effettivamente sono un linguaggio che non c'è capisci? poi poteva piacere o non piacere ma non c'era quando sono arrivato a Vogue Italia hanno detto beh non ce l'ho questo linguaggio quindi lo prendo da sto ragazzino sono arrivato a donna da Lucchini le ho guardate e ha detto beh insomma questa cosa qui è interessante poi imparerai a farne ancora meglio capisci? quindi e poi una considerazione generale poi mi taccio non pensate che è sempre colpa del mercato colpa delle redazioni no no non tu non tu non tu non tu ti faccio faccio sì no no qui nessuna cosa anch'io rispondo genericamente però faccio sempre questo esempio che è una simpatica storiella perché lo sento tanto questa cosa ah ma il mercato non capivi l'editoria mi rifiui allora la storia è stupida ma insomma è uno che imbocca l'autostrada in contromano e continua a schivare macchine come un pazzo schiva una macchina 10, 20, 100 macchine poi c'è finalmente un punto vuoto dell'autostrada e lui dice mamma mia accende la radio e sente un pazzo si è lanciato in autostrada e lui dice uno ma saranno 10.000 capisci? bisogna stare attenti a non fare quella cosa lì sì 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 cioè io tutte le volte che ho perso lavoro ho avuto anche degli anni terribili insomma ho sempre detto ma è colpa mia cioè il mio prodotto non è più non funziona più allora devo rinnovare il mio prodotto devo rinserirmi nel mondo devo ricominciare a guardare le foto di tutti devo capire cosa cazzo sta succedendo e poi sono ripartito se non lo fai e continui a dire vanno tutti in contromano capisci? poi ti riduci a non capire come funziona la vita proprio che è ancora più pericoloso di come funziona di non capire come funziona la fotografia infatti guarda ti rispondo anch'io che quello che manca io penso quello che sta dicendo Giovanni quello che va in contromano è il senso di autocritica quando uno ti fa vedere un lavoro e tu gli dici delle cose lui innanzitutto cerca sempre di giustificarlo però era così era così però io sto parlando su quello che vedo non su quello che tu c'hai nella testa quindi il senso di autocritica manca totalmente quanti che ci sono in giro che si sentono dei fotografi della Madonna degli artisti della Madonna e dicono però la gente non mi capisce è troppo facile dire la gente non mi capisce è più difficile dire perché la gente non mi capisce guardo il mio lavoro lo analizzo e vedo perché non funziona no? e questa cosa la fanno in pochi no? allora io ti faccio un esempio io quando facevo l'impresario Edile avevo tante cose vedo che c'è qui la signora Ballo quindi sarà un aneddoto che gli farà piacere ricordo che Ballo Aldo Ballo lavorava a Meda da Bonacina BBB no? e avevano una sala di posa bellissima allora io al pomeriggio alle 5 quando gli operai andavano a casa mi nascondevo lì al buio e guardavo Ballo lavorare no? che aveva una metodologia e una religiosità pazzesca e il committente mi diceva una cosa lui parlava in dialetto era il signor Renzo Bonacina diceva lui le deve cercare la virgola che la fa la differenza cioè lui sta cercando la virgola che fa la differenza bellissimo cioè in un'immagine di un arredamento lui dice la virgola sarà la luce sarà un taglio di luce un'inquadratura può essere tutto qualcosa che fa la differenza ecco secondo me oggi un giovane ha molta superficialità e non cerca né la virgola né l'autocritica che secondo me sono le due cose più importanti anzi secondo me io penso che te Giovanni sia d'accordo nella mente di tanti credono sempre di fare una cosa nuova una cosa nuova che funziona perché è nuova perché io vedo quelli che mi fanno il lavoro mi fanno vedere i portfogli dicono questa cosa qui è nuova allora io cito un altro un altro grandissimo milanese che era Bruno Munari che diceva Galimba quanto effetto quel coso che ti dice che figata l'ha mai fata nessuna a sapere che è una cagata quindi cioè questo era Bruno Munari non è uno che perché la storia nasce dalla storia e io veramente quando vedo tanti che sono lì castrati delusi dico cazzo ma la fotografia è quello che vuoi fare tu è una cosa religiosa c'è la teoretica c'è il linguaggio c'è la forma c'è il contenuto c'è la sostanza e come diceva Paolo e come diceva Giovanni c'è la virgola che però la virgola è quella importante tu pensi una frase se metti una virgola o un punto come cambia il senso della frase e figurati te in una fotografia e molte volte la scorciatoia è quella di non indagare il proprio lavoro ma dare degli imbecilli agli altri per concludere direi che insomma una notizia anche buona cioè per chiunque abbia quella virgola c'è lavoro ma c'è subito oggi domani mattina per tutti quelli che hanno i giovani che hanno una virgola di differenza secondo me c'è c'è perché lo vedo nelle redazioni che cercano quando propongo dei ragazzi dell'associazione di valore li fanno lavorare cinque dei miei ragazzi hanno fatto la campagna di lancio del telefonino da Samsung voglio dire non è proprio così in più diciamo mi sembra che il grande il grande buco della crisi si stia un po' chiudendo insomma per cui credo che anche per i giovani ripartirà un momento un po' migliore di mercato anche non solo per i giovani ma insomma l'impressione dal mio osservatorio facendo molta pubblicità eccetera è che ci sia una una ripresa per concludere direi allora poche barriere tra fotografia d'arte e fotografia commerciale alla fine si la commerciale è con l'arte invertiamo le sedie si vi ringraziamo tutti grazie 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 mille grazie a tutti 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 grazie a tutti